Oh ragazzi, io non so che cosa dire. Ho appena provato Isotope RX-8 con la funzione Music Rebalance e devo dire che è davvero pazzesco. Se avete aperto questo video è perché sicuramente siete interessati a eliminare una voce magari da una canzone famosa e ottenere così la base per poi cantarci sopra e registrarla. In questo caso questa funzione che vi farò vedere tra pochi secondi può anche essere utilizzata per fare dei remix, quindi è anche in grado di suddividere una canzone in quattro tracce principali e poterle poi mixare in modo differente, magari può essere molto utile per un DJ o per chi vuole provare a magari modificare un po' delle canzoni che vi piacciono. In questo caso utilizzeremo Isotope RX-8 che è appena uscito e ha una funzione molto molto interessante che è appunto Music Rebalance. Questa funzione ci permetterà appunto di fare queste cose cioè eliminare la voce principale e bilanciare in modo differente i vari strumenti. Andiamo subito a vedere come funziona. Allora utilizzeremo questa canzone che è una canzone che ho mixato qualche anno fa semplicemente perché non possiamo utilizzare una canzone famosa in un video di YouTube senza aver problemi di copyright, di conseguenza con questa non avremo nessun tipo di problema. Allora quello che dobbiamo fare è aprire Isotope RX-8 Audio Editor. Questa funzione la troviamo sulla destra, in questo caso sto utilizzando per precisare la versione trial perché è appena uscito e non l'ho ancora acquistato. Sicuramente è un software che acquisterò nei prossimi giorni, dura ben 30 giorni quindi se è la prima volta che dovete utilizzare il software potete usare la versione trial. Allora selezionate volendo la parte su cui volete lavorare o creare un loop. Si va sulla destra in music rebalance. Esce fuori questa fantastica finestrina. Allora come funziona? Molto intuitivo. Allora viene suddivisa tutta la canzone in quattro tracce quindi la parte vocale, la parte di basso, percussioni e other. Other va a prendere tutto quello che non è nelle prime tre categorie, cioè può essere chitarre, effetti sonori, pianoforte, quindi tutto quello che non fa parte di voce, basso e batteria, quindi anche percussioni. Poi troviamo qua in basso la funzione quality. Ci permette di far lavorare il software con tre diverse qualità. Dipende dalla potenza del vostro computer quindi potrebbe fare più o meno difficoltà a funzionare. Separation invece è una percentuale che riguarda appunto la separazione tra le varie tracce. Se noi utilizziamo una separazione pari allo 0%, la separazione sarà il minore possibile, cioè ci saranno meno artefatti possibili, cioè il suono si distruggerà meno perché verrà separato meno tra le varie tracce, però alcune delle tracce come sentiremo dopo potrebbero includere anche suoni che non fan parte di quella categoria. Invece quando usiamo una percentuale intermedia o al massimo la separazione tra le tracce sarà ai massimi livelli. Allora vi faccio sentire senza effettuare nulla come suona il brano in origine. Allora sentite che c'è una voce, basso, pianoforte, chitarre elettriche e una batteria. Allora andiamo a vedere. Vedete che qua sotto ci sono le funzioni solo. Ci permettono di mettere in solo, cioè isolare, una traccia singola per poi andare a capire se stiamo lavorando bene. Ad esempio solo per avere solo la voce. Facciamo preview. Lui va a fare l'analisi. Vedete che adesso siamo su una separazione del 50% circa e comunque la voce è già abbastanza nitida. Se fate caso ci sono anche stati inclusi gli effetti. Tutto questo si può fare grazie all'intelligenza artificiale che questo programma riesce a sfruttare per riuscire a fare l'analisi. Se andiamo a fare separazione 0% sentite che sono presenti anche invece altri strumenti che prima non c'erano. Proviamo a mettere la separazione al massimo. Vedete che lavora molto di più ma inizia a degradarsi sicuramente la voce in confronto al 50%. Ora cosa succede se facciamo il contrario? Mettiamo la preview e proviamo ad abbassare la voce. Non sembra vero ma effettivamente funziona veramente bene. Praticamente la voce viene eliminata quasi completamente. Proviamo a fare separazione 100%. È quasi pazzesco. Adesso proviamo a vedere invece ad esempio la batteria se funziona, se riusciamo a sentirla da sola. Ok, sentite che l'attacco sulla cassa si perde parecchio però è già accettabile ovviamente se dobbiamo eliminarla magari dal mix. Facciamo questo. Ok, sentite che l'attacco sulla cassa si perde parecchio però è già accettabile. Adesso proviamo invece a togliere tutto il resto. Andiamo a sentire che cos'è tutto il resto. Allora sentite che suona da paura questa cosa. Qua abbiamo le chitarre acustiche e il piano. Se andiamo a toglierle dal mix invece. Pazzesco, veramente un sistema comodissimo e super efficace. Andiamo anche a sentire il basso già che ci siamo. Sì, in questo caso la versione basso, quindi lo stem del basso, penso che sia quello che suona peggio, nel senso che viene filtrato tantissimo, c'è praticamente solo la parte bassa ma non riesce a estrapolare esattamente il suono originale del basso. Però sta già facendo dei miracoli questo software, quindi direi che siamo molto più che soddisfatti. Ovviamente questo software poi dà una marea di altre funzioni che possiamo utilizzare per mettere a posto le nostre canzoni, togliere il rumore. Veramente è un programma da avere per chi desidera fare questa tipologia di interventi. Cosa accade poi? Una volta che siamo riusciti a scegliere magari di togliere la voce, andiamo a fare render. In questo caso lui andrà a renderizzare questa parte, adesso io ho selezionato solo una piccola parte della canzone. Andiamo a vedere cosa succede. Dopo qualche secondo. Ok, vedete che è cambiato qualcosa perché comunque è andato a togliere la voce. Una volta che abbiamo finito andremo poi a fare l'export nel formato che desideriamo e il nostro brano sarà appunto utilizzabile magari come base per cantarci sopra. Quindi vi consiglio di fare un WAVA 24 bit per poi importarlo nel vostro software. Allora in questo caso poi, se torniamo indietro, questa parte che abbiamo magari manipolato modificando un po' il bilanciamento, volendo possiamo anche utilizzare la funzione che si chiama Separate. In questo caso lui cosa fa? Va a fare l'analisi di nuovo di tutto. Io l'ho già preparata prima per fare un po' più veloce. Vedete che mi va a creare quattro tracce separate che poi posso andare a salvare singolarmente. Batteria. Basso. Più comodo di così non si può. In questo caso poi le esportate, le importate dentro il vostro software se volete utilizzarle magari per bilanciare meglio la base, se volete fare un remix o qualcosa del genere. Io direi che per quello che l'ho provato mi sono trovato molto bene calcolato che questo programma Music Rebalance fa parte semplicemente di RX Standard, quindi comunque un software da un costo accessibile. Se dovete utilizzarlo una volta sola potete scaricare la trial che dura 30 giorni e sicuramente non avrete problemi e fate quello che vi serve. Vi faccio sentire su un'altra canzone, su un'altra parte, ad esempio... Vedete che funziona alla perfezione, credo che sulla voce sia la parte che ha più qualità, ma andando a giocare un po' con la separation, magari su alcuni generi musicali con voci con molti effetti potrebbe fare più fatica perché ovviamente il tutto è tarato per lavorare su questi stem, su voce, basso, percussioni A e altro, quindi chitarre, piano, eccetera. Ovviamente se la voce è molto effettata è difficile fargli prendere esattamente quello che a noi interessa. Spero di aver dato a tutti uno spunto per creare le vostre basi. Se vi fa piacere lasciatemi un commento e fatemi sapere se vi siete trovati bene con questo software che comunque è molto intuitivo se volete utilizzare questa funzione. Se ancora non l'avete fatto vi consiglio di iscrivervi al canale e quindi di abilitare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. E se vi fa piacere lasciate un like che male non fa. Grazie a tutti per la visione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!